desideravo vivere un altro incontro con la dottoressa Cantarutti, ideatrice del modello la ciboterapia e passo dopo passo dottoressa ci stai accompagnando a nutrire, ad avere cura della nostra energia vitale e anche dell'energia vitale delle persone a cui noi siamo accanto. Sì proprio così Anna e sono molto contenta e onorata di far parte di questo progetto e di percorrere insieme questo bellissimo percorso. Ecco ci hai già accompagnato a scoprire un po' il mondo degli zuccheri, quelli buoni, quelli cattivi, quelli che ci fanno bene, quelli che è meglio evitare. Oggi ci accompagna invece a scoprire qualche cosa che è davvero molto importante perché gli studi scientifici ci stanno dicendo che proprio la glicemia, gli zuccheri possono essere connessi alla demenza. Possiamo anche spiegare quali sono proprio le nuove scoperte scientifiche alle famiglie anche agli operatori che ci stanno ascoltando. Allora Anna, il discorso è un po' complesso però cercherò di semplificarlo al massimo. Quando noi mangiamo una fonte contenente degli zuccheri, questi zuccheri vengono processati a livello digestivo, a un certo punto poi entreranno nel sangue e in risposta di questa presenza di zuccheri nel sangue il nostro pancreas libera dell'insulina. L'insulina qual è il suo scopo? Funge da trasportatore, facilitatore dell'ingresso di glucosio nelle cellule. Ovviamente gli organi che hanno bisogno in modo preferenziale di glucosio, uno di questi è il cervello, secondariamente anche i muscoli perché tutta la forza muscolare, tutti i processi comunque metabolici a questi livelli necessitano di avere zuccheri nella giusta quantità e un facilitatore, in questo caso è l'insulina. Nel caso della persona con demenza e soprattutto nel caso dell'Alzheimer, la ricerca scientifica che cosa ha detto? Che l'Alzheimer o la demenza di vari tipi, di varie tipologie è spesso correlata ad alti livelli di zuccheri ma che non vengono gestiti correttamente perché? Perché a molte abbiamo un problema di insulino resistenza, cioè la cellula non è più in grado di svolgere al meglio il suo compito quindi di assimilare lo zucchero ma soprattutto è l'insulina che non ha più a disposizione il recettore che è come un'antennina presente sulla membrana della cellula e che dovrebbe captare praticamente questo, favorire questo ingresso. Infatti purtroppo nella demenza e nell'Alzheimer avviene quella che viene definita insulino resistenza quindi il cervello di fatto urino non rimane privo di quello che gli serve. Lo zucchero però che rimane in circolazione ha degli effetti estremamente negativi perché produce infiammazione e quindi apre la strada e peggiora nel caso sia già presente comunque la neurodegenerazione. Questo aspetto purtroppo non riguarda solo le persone con demenza o Alzheimer già in corso. Una ricerca che risale proprio al mese di agosto, dieci anni fa, tra l'altro pubblicata su una delle riviste scientifiche più importanti che la New England Medical Association, che cosa ha visto? Che praticamente anche delle alterazioni leggere della glicemia o avere la glicemia glicata può predisporre nel tempo poi a sviluppare demenza. Quindi noi dobbiamo tutti noi, non solo noi che ci prendiamo cura o chi ha comunque già il problema, dobbiamo fare molta attenzione al carico glicemico, come gestiamo i nostri pasti e comunque la nostra glicemia. Questo è davvero molto importante, noi abbiamo già visto insieme a te dottoressa quali sono i cibi ottimali, ma nella nostra quotidianità noi abbiamo creato nel tempo anche tantissime abitudini, anche rispetto a come viviamo il momento del pasto. Allora la domanda che mi sorge spontanea è questa, che cosa possiamo fare accadere ogni giorno? Esiste una sequenza migliore rispetto ai cibi che noi ci offriamo e offriamo alle persone che vivono con demenza rispetto ad ogni pasto? Allora esistono delle strategie che possiamo applicare. Innanzitutto dobbiamo riportare l'attenzione sull'importanza di avere nei pasti un adeguato apporto proteico, perché le proteine fanno parte non solo di quello che immaginiamo noi la pelle, i muscoli e via dicendo, ma sono implicate anche nei processi della memoria, quindi sono fondamentali per il buon funzionamento del cervello. Ora, dal punto di vista della progressione, quindi come dobbiamo creare una sequenza dei cibi nel pasto, l'ideale sarebbe quello di aprire il pasto con una verdura, questa è una verdura cruda, una verdura cotta, questo dipende molto dalle abitudini, dipende molto dalla stagione in cui ci troviamo. È chiaro che d'estate è più facile utilizzare una verdura cruda, mentre l'inverno se avremo freddo avremo bisogno di qualcosa di caldo, quindi quel qualcosa di caldo potrà diventare anche una crema di verdura, un passato e via dicendo. Avremo modo poi in futuro anche di parlare proprio di quelle che sono ad esempio le differenze, perché il minestrone ad esempio bisogna capire anche come associare tra di loro comunque le verdure. Quindi aprire con una verdura verde, la quale verdura farà in modo di agire sia come segnalatore autonomo, quindi il verde di fatto apporta clorofilla, apporta delle sostanze fitochimiche molto importanti tra cui anche i folati che sono protettivi nei confronti del cervello, quindi anche della demenza e via dicendo, e poi naturalmente ci sarà anche l'effetto frenante delle fibre. Le fibre una volta che raggiungono il nostro intestino creano una sorta di maglia che intrappola di fatto e controlla, aiuta a controllare la glicemia del pasto. A seguire, questo è quello che dice la scienza, l'ideale è metterci la proteina, può essere una proteina della carne, del pesce, delle uova, quindi privilegiare ovviamente nelle condizioni di demenza non smetterò a me di dire le proteine nobili. Non ho nulla contro le proteine di tipo vegetale, ma quella nel caso della demenza o di Alzheimer conclamato è meglio la proteina nobile completa perché queste persone hanno più difficoltà a estrapolare gli aminoacidi di cui hanno bisogno, quindi noi dobbiamo anche considerare questo. Poi metterci eventualmente condirla, questa proteina, con una verdura cotta che può essere qualche pomodorino, quindi anche con una fonte comunque di carotenoidi e a questo punto metterci la fonte di carboidrati, delle patate, del cereale in chicco e via diciamo, a cui potremmo inserire eventualmente il legume. In questo modo noi creiamo un pasto equilibrato molto completo dal punto di vista anche dei cofattori genomici e via dicendo, ma soprattutto andremo anche a controllare meglio la glicemia. Un'altra strategia è quella di condire con l'aceto, anche l'aceto di vino o di mele è ottimo per controllare l'indice glicemico del post pasto, ma ricordiamoci sempre che noi dobbiamo avere anche delle proteine perché l'insulina, quel famoso facilitatore, è di fatto un ormone proteico. Questo è davvero straordinario perché davvero noi con semplicità possiamo creare il menù giusto e direi anche nel giusto ordine. E mi sorge spontanea anche un'altra domanda, come possiamo offrire questa opportunità con grande attenzione non soltanto all'energia ma anche alla dignità, rispetto dei gusti, delle emozioni, dei ricordi, il pasto è un'esperienza che viviamo, rispetto a quelle persone che hanno la necessità di assaporare degli ottimi cibi ma di una consistenza diversa, frullata magari. Questo però motivi legati ad esempio a problemi come la disfagia che nelle fasi avanzate della demenza purtroppo si manifesta. Allora io sono completamente contraria a utilizzare in un singolo pasto mettere insieme tutti gli elementi pur perdendo di fatto abbiamo il vantaggio del frullato ma di fatto otterremo sia per colore sia che per consistenza e soprattutto perderemo la caratterizzazione di ogni singola portata. Quindi proporre uno o due massimo tipi di cibi diversi ovviamente frullati cercando di giocare il più possibile sui colori. Quindi visto che le persone che solitamente con demenza hanno anche delle appetenze verso magari il salato, verso il dolce, soprattutto verso il dolce potremmo sfruttare il potere naturalmente dolcificante quindi senza aggiungere zuccheri ma sfruttando quella la dolcezza delle verdure e questo ci potrà essere d'aiuto. In più sfrutteremo anche l'aspetto del colore. Facciamo l'esempio patata dolce americana oppure la zucca oppure le carote che sono naturalmente dolci. In alcuni casi potremmo utilizzare ad esempio anche le cipolle cotte o i porri. Questi danno hanno degli effetti aggiuntivi aiutano proprio anche la diuresi e via dicendo e conferiscono quel sapore che noi andiamo a ricercare con ovviamente anche degli effetti aggiuntivi dal punto di vista funzionale. Hai toccato degli elementi davvero importanti perché così noi offriamo sempre la possibilità di assaporare ogni cibo e anche di degustarlo e magari anche di scegliere quello che ancora mi piace e quello che invece non gradisco proprio perché è cambiato un gusto e quindi il pasto è sempre un'esperienza di valore anche per le persone che vivono con demenza e che hanno bisogno di una consistenza diversa. Ecco magari in questi giorni a proposito di sentire meno appetito questo può accadere anche con il grande caldo che stiamo avvertendo. Ci sono dottoressa anche qui delle strategie, degli ingredienti speciali che possiamo utilizzare per esaltare i sapori, per rendere i cibi più freschi o più appetibili? Il mio consiglio è quello di utilizzare il basilico fresco che ha questa aroma particolare, accogliente e dissetante ed è soprattutto aiuta ad essere sedativo. Il basilico è straordinario perché aiuta a togliere gli spasmi intestinali ma allo stesso tempo ha un effetto calmante e noi sappiamo quanto sia importante nella persona affetta con demenza utilizzare anche in modo sapiente alcuni tipi di elementi, quindi qualche cibo che possa aiutarci in questo contesto. Possiamo utilizzare ad esempio la scorzetta del limone grattugiata, andremo ad arricchire in questo modo il nostro pasto di fitochimici molto importanti, avrà tra l'altro un effetto molto mirato sul controllo della glicemia, andremo ad arricchirlo di antiossidanti, agiremo positivamente sul microcircolo, ma soprattutto con questo gusto fresco limonato noi potremo dare una sensorialità alla nostra preparazione. Potremmo utilizzare ad esempio il rosmarino che è molto utile anche per sostenere tutti i processi mermonici per la condizione e via dicendo, è ricco di antiossidanti. Quindi queste piccole cose possono essere tranquillamente utilizzate. Possiamo invece servire, invece della classica zuppa calda, possiamo fare una sorta di gaspaccio. Utilizziamo le verdure creando un gaspaccio freddo e a questo punto all'interno di questo gaspaccio noi potremo andare a inserire ad esempio la nostra fonte proteica che potrà essere del pesce bollito, rullato naturalmente, oppure potrà essere una fonte di proteine da carni bianche come il pollo e il tacchino. E quindi potremo ottenere in questo modo qualcosa di piacevole, fresco e che ci aiuterà a poter soddisfare anche i fabbisogni nutrizionali della persona che seguiamo. È davvero fantastico. Io avrei ancora tantissime domande da farti, dottoressa, ma ne riserviamo alcune per le prossime puntate. Quindi grazie e perché anche nell'incontro di oggi ci hai dato preziosissimi consigli che possiamo portare subito nella quotidianità e assolutamente direi che per il nostro benessere e per la nostra energia vitale ne vale l'impegno. Allora scriveteci, raccontateci come queste esperienze, questi incontri stanno aumentando la vostra energia vitale e quella delle persone di cui avete cura e con la dottoressa Cantarutti noi vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie ancora e ciao. Grazie. Grazie a tutti.